Sulla nostra regione continuano ad affluire correnti settentrionali che però nel fine settimana saranno un po' meno fredde in quota. Pertanto avremo una giornata di sabato con un cielo improntato alla variabilità per la possibile presenza di velature anche spesse ad alta quota. Atmosfera sempre secca nei bassi strati, temperature minime intorno ai meno 3 sulla pianura, intorno allo 0 sulla costa e valori sotto 0 ovunque in montagna. Durante il giorno intorno ai 7-8 gradi le massime su pianura e costa. Nella giornata di domenica avremo condizioni di cielo in prevalenza poco nuvoloso, l'atmosfera sarà un pochettino più umida nei bassi strati, soprattutto nel pomeriggio e sulla pianura sulla costa orientale dove potremo avere la formazione di nubi basse in montagna, sempre tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Un po' più di nubi al mattino di lunedì, possibile qualche debole nevicata sulla cresta di confine, in quota verso l'Austria e probabilmente lunedì avremo anche vento piuttosto sostenuto a tratti anche forti, da nord nord ovest, sempre sui monti in quota. Il tempo rimane stabile anche i giorni successivi con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Buon fine settimana a tutti!